Bentornati su MyFootballJersey, quella che vedete è una maglia storica, la seconda maglia del Manchester United per la stagione 2007-2008, la maglia di uno dei miei giocatori preferiti di Ryan Giggs. Grazie a tutti. Ho già detto che è un debole per le maglie scure e quindi questa nella mia classifica non può prendere che 5 stelle, se non altro anche per i ricordi che mi porta alla mente. Il costo lo vedete qui sopra, bassissimo lo dico sempre, mi sembra di essere ripetitivo però fate voi le vostre valutazioni. Vi ricordo che in descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere perché c'è anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari, quindi la maglia diventa ancora più economica. Ora vi lascio alla parte finale. Prima però, se volete far crescere il canale, se volete avere sempre nuove recensioni, mi raccomando iscrivetevi. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan. Grazie. Grazie.